La casa indiana Mahindra sceglie Milano per svelare il nuovo City SUV compatto destinato a segnare l'inizio del nuovo corso commerciale sul mercato continentale, che ha in Spagna e Italia il due principali sbocchi. Si chiama KUV100 e si caratterizza per la sua linea muscolosa, in particolare nel frontale, dal gusto alquanto particolare. La posizione di guida alta offre una buona padronanza della strada e lo spazio all'interno non manca, grazie alle cinque porte e cinque posti. Il numero 100 indica le dimensioni e la classe progressiva del veicolo, che nel mondo Mahindra figura come entry-level, in rapporto al top di gamma rappresentato dal modello XUV500. KUV100 è importato in Europa esclusivamente con il nuovo motore in alluminio tre cilindri a benzina, è un 1.2 da 82 CV, caratterizzato da uno spunto sempre vivace ai bassi regimi, ideale per il traffico congestionato della città, ma sulle lunghe percorrenze fatica a tenere velocità autostradali a piano carico e aumentano i consumi. Il numero 100 indica le dimensioni e piùストres немножit welle mer Psalare l' sencille anche con il nuovo motore in all구성. A boss version del West Mut